Siamo stati qualche giorno fa sulla strada che collega Cava dei Tirreni e Pellezzano, una strada che era stato oggetto di una bonifica da parte di Lega Ambiente in collaborazione con altre associazioni e le rappresentanze dei due comuni. Eppure la situazione sembra essere addirittura peggiorata. Cosa è che non ha funzionato? Parecchie cose non hanno funzionato. Innanzitutto la situazione è tragica, come dici tu, ci sono rifiuti anche pericolosi, rifiuti speciali, rifiuti davvero dannosi per la salute dei cittadini. Non solo che abita quella zona, ma ricordiamo che i valloni di quelle strade portano in centro a Cava, in centro a Pellezzano e quindi le acque inquinate dai rifiuti tossici là possono arrivare fino alle nostre case. Quindi è una questione anche dal punto di vista della salute da tenere sotto controllo. Bisogna intervenire. Due anni fa facemmo questo intervento di pulizia insieme ai comuni, ma lo facemmo affinché poi ci fosse messa in atto la promessa che le amministrazioni allora avevano fatto. La promessa di mettere delle telecamere, di aumentare i controlli dei vigili nell'area, ma a due anni di distanza tutto questo non c'è stato, ahimè. Interventi sporadici non se ne prevedono e non sarebbero efficaci per risolvere quella che è una situazione gravosa. Come si può immaginare di intervenire? Allora, interventi sporadici possiamo anche rifarli. Noi a metà ottobre, in settimana comunichiamo la data, puliamo il mondo. Dopo due anni potremmo anche tornare di nuovo lì a rimuovere i rifiuti insieme sempre ai comuni, alle protezioni civili, alle associazioni e ai volontari. Il problema è che stavolta bisogna fare un patto scritto, a sto punto, da parte delle amministrazioni di Cava e Pellezzano, dove si dice che quest'area verrà vigilata, verranno a poste delle telecamere, ma anche verrà riqualificata da un punto di vista anche di attrazione turistica magari, perché noi pensiamo che quell'area se viene dimenticata, se viene lasciata a se stessa, la gente continuerà ad andare là, i malviventi continuano ad andare là, a sversare questi rifiuti. Se invece gli diamo un significato, un valore, con dei percorsi di trekking, facendo degli eventi, delle gare, rendendole insomma più attraente questo tratto di strada da Croce a Pellezzano, si disincentiva anche lo sversamento e questi atti vandalici. Presidente, Lega Ambiente Cava con Puleamo il Mondo ormai da anni focalizza l'attenzione su punti degradati della città per rivalorizzarli. Però, come è successo a Pellezzano, anche lo sgambatoio di Cava dei Tirani è stato oggetto di una bonifica da parte di Lega Ambiente, però oggi sembra che nulla sia migliorato. Noi l'anno scorso con Puleamo il Mondo volevamo porre i riflettori su quest'area dello sgambatoio, però avevamo un obiettivo, quello di creare il bosco urbano resiliente, nell'area immediatamente adiacente di proprietà dell'ASL. Purtroppo l'ASL, dopo averci invitato a fare questo progetto, dopo che noi, i nostri volontari, hanno fatto dei rendering, delle progettualità, abbiamo parlato con dei possibili finanziatori per piantare gli alberi, sentire e quant'altro, l'ASL Salerno purtroppo si è tirata indietro. Non ci ha più concesso quest'area per cinque anni, dove avremmo potuto realizzare un parco verde, un polmone verde per la città, senza costi per i cittadini, con contributi dei privati e quant'altro, con il coinvolgimento di persone con disabilità, insomma, si riqualificava veramente l'area di via Gramsci, quindi lo scorso Puliamo il Mondo purtroppo non ha avuto un seguito. Quest'anno sceglieremo un'area che può essere Pellezzano o un'altra ancora, ma affinché non sia Puliamo il Mondo un'azione spot, ma provi sempre poi a creare una progettualità, un miglioramento continuo nel tempo. Grazie a tutti.